Il percorso della vita Scritto da Aldenx Introduzione Dio ci dice che ci sono due umanità. Una umanità finirà con la morte e la distruzione eterna. L'altra umanità finirà nella vita eterna. Per entrare nella vita, dobbiamo diventare membri dell'umanità della vita eterna. In Prima Corinzi, capitolo 15, verso 22, Paolo scrive In Adamo tutti muoiono, così anche in Cristo tutti saranno vivificati. Questo versetto è il modo in cui Paolo dice che i membri dell'umanità nata da Adamo moriranno e i membri dell'umanità nata da Cristo saranno resi vivi. Anche Gesù ha parlato di due umanità. Quando spiegò la parabola del grano e della gramigna, disse Il buon seme rappresenta i figli del regno. La gramigna rappresenta i figli del maligno. Matteo capitolo 13, verso 38 Gesù disse che c'è un'umanità nata dal seme di Satana e un'altra umanità nata dal seme di Dio. Come l'umanità nata da Adamo, l'umanità nata dal seme di Satana morirà. L'umanità nata dal seme di Dio vivrà. In Adamo, ed in Cristo, sono allusioni culturali. La Bibbia usa allusioni come queste. Quando non riconosciamo le allusioni e non vediamo a cosa si riferiscono, non riusciamo a capire cosa dice la Bibbia. Ciò che la Bibbia dice che dobbiamo fare per entrare nella vita include allusioni. Rischiamo di non entrare nella vita se non le vediamo e non le comprendiamo. Non dobbiamo affidarci alla nostra comprensione per capire queste cose. Dobbiamo indossare l'armatura di Dio e chiedere a Dio di mandare lo Spirito di verità per guidarci nella verità di queste cose. Padre, ti ringraziamo nel nome di Gesù per la tua armatura e indossiamo la tua armatura, la verità, la rettitudine, il Vangelo della Pace, la fede, la salvezza e la spada del tuo Spirito. Padre, ti ringraziamo nel nome di Gesù perché mandi il tuo Spirito di verità per guidarci in tutta la verità. Ti chiediamo di inviare il tuo Spirito di verità per guidarci in tutta la verità delle cose scritte in questo libro. Capitolo 1 In Adamo Dio creò i primi due membri, la testa del corpo dell'umanità. Essi dovevano fidarsi di Lui, della Sua parola, della Sua guida e delle Sue provvidenze, e seguirlo. Disse loro di moltiplicarsi, di aggiungere altri membri al corpo dell'umanità. I loro figli avrebbero ereditato la loro natura e sarebbero stati come loro. Dio stabilì il processo che le piante, gli animali e l'uomo dovevano seguire per produrre discendenti. Dovevano generare semi che sarebbero cresciuti in altri con la loro natura. Dio disse, La terra faccia germogliare vegetazione, piante che producano semi e alberi da frutto che portino frutti in cui c'è il loro seme, ciascuno secondo la sua specie. Genesi capitolo 1 verso 11 Quando Dio creò l'uomo, lo fece a somiglianza di Dio. Dio li creò maschio e femmina, li benedisse e li chiamò uomo, in ebraico Adam. Quando Adamo visse 130 anni, generò un figlio a sua immagine e somiglianza e lo chiamò a sé. Genesi capitolo 5 versi 1 a 3 Così, Dio fece di Adamo il capo dell'umanità. Tutta l'umanità nata da Adamo è nata in Adamo, e ha in sé la natura di Adamo. Satana venne a parlare ad Adamo ed Eva. Le sue parole erano semi spirituali. Adamo ed Eva permisero alle parole di Satana, semi, di entrare nel loro cuore, e quei semi iniziarono a produrre secondo la loro specie. Quando Adamo ed Eva accolsero le parole di Satana nel loro cuore, nacquero dal seme di Satana. Poiché Adamo è il capo dell'umanità, tutta l'umanità nata da Adamo è nata dal seme di Satana. Satana tentò Adamo ed Eva a fare molto di più che mangiare il frutto che Dio aveva detto loro di non mangiare. Gli ha tentati di aggiungere alla loro natura i seguenti attributi spirituali. Difidare di Dio Rifiutare l'autorità di Dio su di loro Rifiutare una vita di sottomissione a Dio Rifiutano le provvidenze di Dio e si affidano a loro stessi per Percezione, discernimento e comprensione La guida Come percepire, discernere e comprendere Ciò che è vero, falso, buono, cattivo, possibile, impossibile, affidabile, non affidabile, essenziale, non essenziale Cosa dovrebbero essere? Desiderare, credere, pensare, dire e fare Come, quando e perché devono parlare, agire e andare Ciò di cui hanno bisogno, per soddisfare i loro bisogni e desideri Come e quando, devono cercare di soddisfare i loro bisogni e desideri Le conseguenze di ciò che sono, desiderano, credono, pensano, dicono e fanno Desiderano più la comodità e l'agio che la crescita spirituale, la maturità e il completamento Adamo ed Eva hanno ceduto alla tentazione di Satana e la natura di Satana è diventata parte della loro natura Adamo ed Eva sono nati dal seme di Satana e ora tutti i loro discendenti sono nati dal seme di Satana Siamo tutti nati in Adamo Moriremo tutti in Adamo, a meno che non ci sottraiamo all'umanità nata da Adamo e non entriamo nella vita in Cristo Capitolo 2 In Cristo e nel corpo di Cristo In Cristo Circa duemila anni fa, Dio creò una nuova umanità Dio parlò a una donna, Maria Lei ricevette le sue parole Seme Quel seme concepì nel suo grembo e il primo membro di una nuova umanità nacque dal seme di Dio Gesù è il capo della nuova umanità e tutte le persone nate dal seme di Dio sono in Cristo Se qualcuno è in Cristo è una nuova creazione Seconda Corinzi capitolo 5 verso 17 Vi siete rivestiti della nuova umanità, Antropon, quella che Dio ha creato a sua somiglianza nella Rettitudine e nella santità della verità Efesini capitolo 4 verso 24 e Colossesi capitolo 3 verso 10 In prima Corinzi capitolo 15 verso 22 Paolo usò la parola Adamo per riferirsi al corpo dell'umanità di cui Adamo è il capo Allo stesso modo Paolo ha usato la parola Cristo per riferirsi al corpo dell'umanità di cui Cristo è il capo Da un uomo Adamo è venuta la morte e da un uomo Cristo è venuta la risurrezione dei morti In Adamo tutti muoiono, così anche in Cristo tutti saranno vivificati Prima Corinzi capitolo 15 versi 21 e 22 Il corpo di Cristo Il corpo di Cristo è un'altra allusione che Paolo usa per riferirsi al corpo dell'umanità di cui Cristo è il capo Un corpo di persone è un gruppo di persone che stanno insieme o che sono collegate in qualche modo Corpo è la parola greca soma che si usa per indicare un numero di persone strettamente unite in una società o per così dire in una famiglia Seneca diceva Lo stato è il corpo dell'imperatore che è l'anima o il capo dello stato Il termine corpo è usato per sottolineare l'unità e l'interdipendenza degli individui in un gruppo Infatti, come in un solo corpo abbiamo molte membra e le membra non hanno tutte la stessa funzione Così noi, pur essendo molti, siamo un solo corpo in Cristo e membra gli uni degli altri Romani capitolo 12 versi 4 e 5 Dicendo la verità nell'amore, dobbiamo crescere in ogni modo in colui che è il capo In Cristo, dal quale tutto il corpo, unito e tenuto insieme da ogni giuntura di cui è dotato Quando ogni parte funziona correttamente, fa crescere il corpo in modo da edificare se stesso nell'amore Efesini capitolo 4 versi 15 e 16 In Prima Corinzi capitolo 12 versi 12 a 20, 27 e 28 Paolo scrive del corpo di Cristo e sottolinea l'unità del popolo in Cristo Infatti, come il corpo è uno solo e ha molte membra E tutte le membra del corpo, pur essendo molte, sono un corpo solo, così è per Cristo Per mezzo di un solo spirito, infatti, tutti siamo stati battezzati in un solo corpo Giudei o greci, schiavi o liberi, e tutti siamo stati fatti bere di un solo spirito Paolo paragona poi il corpo di Cristo a un corpo fisico Per sottolineare l'interdipendenza e il necessario contributo di ogni persona nel corpo di Cristo Il corpo infatti non è composto da un solo membro, ma da molti Se il piede dicesse Poiché non sono una mano, non appartengo al corpo Ciò non lo renderebbe meno parte del corpo E se l'orecchio dicesse Poiché non sono un occhio, non appartengo al corpo Ciò non lo renderebbe meno parte del corpo Se tutto il corpo fosse un occhio, dove sarebbe il senso dell'udito? Se tutto il corpo fosse un orecchio, dove sarebbe l'olfatto? Ma così com'è, Dio ha disposto le membra del corpo, ognuna di esse, come ha scelto Se tutti fossero un unico membro, dove sarebbe il corpo? Così com'è, ci sono molte parti, ma un solo corpo Paolo ha completato la sua istruzione sull'unità e l'interdipendenza degli individui che costituiscono il corpo di persone di cui Cristo è il capo Ha terminato mostrando che, proprio come un corpo fisico ha membri funzionali come piedi, occhi e orecchie le persone che sono il corpo di Cristo hanno apostoli, profeti e insegnanti Ora voi siete il corpo di Cristo e ne fate parte individualmente Dio ha designato nella Chiesa, prima gli apostoli, poi i profeti, poi gli insegnanti poi i miracoli, poi i doni di guarigione, di aiuto, di amministrazione e le varie specie di lingue Prima Corinzi capitolo 12, versi 12 a 20, 27 e 28 Capitolo 3. La natura dell'umanità Siamo parte dell'umanità, nata dal seme di Adamo Purtroppo, anche l'umanità nata dal seme di Adamo fa parte di noi Dio comandò agli esseri viventi di produrre semi che avrebbero generato discendenti con la natura dell'essere vivente E Dio disse La terra faccia germogliare vegetazione, piante che producano seme e alberi da frutto che diano frutti in cui è il loro seme, ciascuno secondo la sua specie Genesi capitolo 1, verso 11 Quando Adamo ed Eva cedettero alla tentazione di Satana, la natura di Satana divenne parte della loro natura Secondo il comando di Dio sui semi, la natura corrotta di Adamo passò a tutta l'umanità nata da Adamo Con il peccato di Adamo, la legge del seme ha reso tutta l'umanità peccatrice e tutti sono diventati soggetti alla morte La natura di Adamo diventa parte di noi, non abbiamo voce in capitolo e non possiamo impedirlo Dio intendeva che il suo comando perpetuasse la vita attraverso i semi Ma la natura corrotta ha operato attraverso il comando per perpetuare il peccato, la morte e la schiavitù La morte è arrivata a tutti gli uomini, non come punizione per qualcosa che avevano fatto Ma perché sono venuti al mondo con la natura corrotta di Adamo che produce peccato e morte Come risultato del comando di Dio riguardante i semi, la natura corrotta dell'umanità è una parte indissolubile dell'umanità Paolo ha visto questo collegamento e ha usato umanità per riferirsi all'umanità e alla sua natura Lo ha fatto quando ha affrontato la natura corrotta dell'umanità in Efesini e Colossesi Riguardo al precedente stile di vita, dovete aver eliminato la vecchia umanità, Antropon, che i suoi desideri ingannevoli corrompono Efesini capitolo 4 verso 22 Non mentite gli uni agli altri, poiché avete eliminato la vecchia umanità, Antropon, con le sue azioni Colossesi capitolo 3 verso 9 Antropon è usato per indicare l'uomo, il genere umano o l'umanità Paolo ha usato vecchia umanità per riferirsi all'umanità nata da Adamo e alla sua natura Paolo ha usato nuova umanità per riferirsi all'umanità nata dallo spirito e alla sua natura Sappiamo che il nostro vecchio uomo, la natura della vecchia umanità in noi, è stato crocifisso con lui Affinché il dominio del peccato, attraverso la natura della vecchia umanità in noi, sul corpo della vecchia umanità, sia abolito, in modo che non siamo più schiavi del peccato Romani capitolo 6 verso 6 Vi siete rivestiti della nuova umanità, Antropon, quella che Dio ha creato a sua somiglianza nella rettitudine e nella santità della verità Efesini capitolo 4 verso 24 e Colossesi capitolo 3 verso 10 Capitolo 4. Carne e spirito Carne è un'altra parola che Paolo usa per riferirsi alla vecchia umanità e alla sua natura Il manuale della United Bible Society, sulla lettera di Paolo ai Romani, dice A volte, carne è usato per descrivere l'esistenza umana nella sua fragilità, mentre altre volte è usato per descrivere la natura umana Il manuale su Prima Corinzi dice La parola ebraica per carne, di solito significava la natura umana con la sua debolezza Paolo scrive Fratelli, dunque, non siamo obbligati a vivere secondo la carne, perché se vivete secondo la carne, morirete Ma se per mezzo dello spirito mettete a morte le opere del corpo, vivrete Romani capitolo 8 versi 12 e 13 Se comprendiamo bene la sua allusione, ha detto che non siamo obbligati a vivere secondo la natura della vecchia umanità, e che se viviamo secondo la natura della vecchia umanità, moriremo Se, con la guida e la forza dello Spirito Santo, mettiamo a morte le azioni del corpo dell'umanità, nata da Adamo e la sua natura, vivremo Fratelli, non ho potuto parlarvi come persone spirituali, ma come persone di carne, come bambini in Cristo Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora pronti Anzi, non siete ancora pronti, perché siete ancora carnali Poiché ci sono gelosie e litigi tra di voi, non siete forse carnali e vivete come i non credenti Quando qualcuno dice, io sto con Paolo, e un altro, io sto con Apollo, non siete forse persone carnali? Prima Corinzi capitolo 3 versi 1 a 4 Se seguiamo le allusioni Fratelli, non ho potuto parlarvi come persone dell'umanità nata dallo Spirito, ma come persone dell'umanità nata da Adamo, come bambini in Cristo Vi ho dato da bere latte, non cibo solido, perché non eravate ancora pronti Anzi, non siete ancora pronti, perché siete ancora persone con la natura della vecchia umanità Poiché ci sono gelosie e lotte tra di voi, non siete forse ancora persone con la natura della vecchia umanità e vivete come miscredenti Quando qualcuno dice, io sto con Paolo, e un altro, io sto con Apollo, non siete forse persone con la vecchia umanità e la sua natura? Prima Corinzi capitolo 3 versi 1 a 4 Ora le opere della carne, la vecchia umanità e la sua natura, sono evidenti Immoralità sessuale, impurità morale, promiscuità, idolatria, stregoneria, odi, lotte, gelosie, scoppi d'ira, ambizioni egoistiche, dissensi, fazioni, invidie, ubriachezze, gozzoviglie e cose simili Galati capitolo 5 verso 19 Il termine Spirito è usato per descrivere la parte non fisica di una persona che è nata dallo Spirito Santo In alcuni dei miei libri precedenti ho descritto carne e spirito nel modo seguente Quando il Nuovo Testamento usa il termine carne in relazione ai desideri corrotti, alle opere corrotte e al peccato, rispetto allo Spirito Si riferisce alla parte del cuore dell'uomo che ha accolto nel suo essere il seme corrotto di Satana È il tesoro malvagio del cuore di una persona malvagia È la parte del cuore con alberi corrotti che producono frutti corrotti Lo Spirito, in contrasto con la carne, è la parte del cuore dell'uomo che non ha accolto il seme corrotto di Satana nel suo essere Ha accolto la parola di Dio nel suo essere È il tesoro buono del cuore di un uomo buono È la parte del cuore con alberi buoni che producono frutti buoni Le descrizioni della carne e dello Spirito in questo libro contengono alcuni degli stessi elementi, ma sono più complete Capitolo 5. La potenza all'opera in noi Paolo disse di aver visto dentro di sé una potenza che faceva guerra alla potenza della sua mente e che lo rendeva prigioniero della potenza del peccato che era in lui C'è una potenza dentro di me che è in guerra con la mia mente Questa potenza mi rende schiavo della potenza del peccato che è in me Romani capitolo 7 verso 23 Altre cose dette da Paolo nella sua testimonianza ci aiutano a capire a quale potere si riferisce Paolo disse Io sono della carne venduto come schiavo alla potenza del peccato Romani capitolo 7 verso 14 Paolo era della carne, il corpo dell'umanità nato da Adamo Adamo ha venduto se stesso e tutti i suoi discendenti come schiavi del potere del peccato Paolo chiese anche Chi mi libererà da questo corpo di morte? Romani capitolo 7 verso 24 Attraverso Adamo tutta l'umanità nata da lui è soggetta alla morte Il corpo di morte è il corpo dell'umanità nata da Adamo e soggetta alla morte Paolo vedeva che la natura corrotta dell'umanità nata da Adamo produceva in lui il peccato e la morte ed era impotente affermarla Dio ci ha liberati dal corpo di morte per mezzo di Gesù Cristo, nostro Signore Romani capitolo 7 verso 25 Se siamo in Cristo, nati dal seme di Dio, la potenza dello spirito della vita ci ha liberati in Cristo dal potere del peccato e della morte Romani capitolo 8 versi 1 e 2 Paolo vide che la potenza di Dio operava attraverso lo spirito di Dio in coloro che erano nati dal seme di Dio per fare ciò che Dio richiede ed essere a Lui graditi Se non viviamo secondo la potenza della natura dell'umanità nata da Adamo ma viviamo secondo la potenza di Dio attraverso lo spirito di Dio siamo in grado di soddisfare i requisiti della legge Vivere secondo la natura della carne, la vecchia umanità, è morte ma vivere secondo la potenza dello spirito di Dio è vita e pace Romani capitolo 8 versi 4 e 6 Darò loro un solo cuore e metterò dentro di loro uno spirito nuovo Toglierò dalla loro carne il cuore di pietra e darò loro un cuore di carne affinché camminino nei miei statuti, osservino le mie regole e le rispettino Saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio Ezechiele capitolo 11 versi 19 e 20 Metterò il mio spirito dentro di voi e vi farò camminare nei miei statuti e osservare le mie regole Ezechiele capitolo 36 verso 27 Dio è in grado di fare molto e abbondantemente al di sopra di ogni cosa che chiediamo o pensiamo secondo la potenza che opera in noi Efesini capitolo 3 verso 20 Capitolo 6 Sfuggire all'umanità della morte Paolo ha detto che la natura corrotta dell'umanità nata da Adamo in lui ha prodotto il peccato e la morte Gesù ci ha detto che, per entrare nella vita, dobbiamo eliminare le cose che ci fanno peccare Se la tua mano o il tuo piede ti fanno peccare, tagliali e gettali via È meglio che entriate nella vita storpi o zoppi, piuttosto che con due mani o due piedi siate gettati nel fuoco eterno E se il vostro occhio vi fa peccare, strappatelo e gettatelo via È meglio per voi entrare nella vita con un occhio solo, che con due occhi, essere gettati nell'inferno di fuoco Matteo capitolo 5 versi 29 e 30 Capitolo 18 versi 8 e 9 E Marco capitolo 9 versi 44 a 47 Paolo ha applicato le istruzioni di Gesù per rimuovere la natura che causa il peccato della vecchia umanità Se davvero lo avete ascoltato, Gesù, e siete stati istruiti su di lui allora avete imparato che, poiché ciò che è in Gesù è verità per quanto riguarda il vostro precedente stile di vita dovete togliervi di dosso la vecchia umanità, Antropon che appartiene al vostro precedente stile di vita ed è corrotta da desideri ingannevoli Efesini capitolo 4 versi 21 e 22 Perciò mettete a morte Necrosate Le membra che sono sulla terra, membra spirituali del corpo di Adamo l'immoralità sessuale, l'impurità, la lussuria, il desiderio malvagio e la cupidigia, che è idolatria Colossesi capitolo 3 verso 5 Necrosate privare della vita o del potere energizzante in senso figurato, tagliare, recidere, tutto ciò che energizza Non mentite gli uni agli altri, avendo eliminato Apec di Samenoi La vecchia umanità Antropon, con le sue pratiche, desideri, credenze, pensieri, parole e azioni Colossesi capitolo 3 verso 9 Apec di Samenoi Eliminare completamente da sé Apo indica la separazione da ciò che viene eliminato I doppi prefissi Apo e Eka Sottolineano fortemente la profondità della rinuncia La rinuncia allo spogliarsi è molto enfatica In Prima Corinzi capitolo 2 verso 14 Paolo descrive le persone della vecchia umanità come persone naturali La parola greca usata per naturale è saikaikos e significa Una persona governata dalla natura sensuale con la sua sottomissione all'appetito e alle passioni Una persona in armonia con i desideri e gli affetti corrotti La persona naturale non accetta le cose dello spirito di Dio perché sono per lui follia e non è in grado di comprenderle perché sono spiritualmente discernibili Prima Corinzi capitolo 2 verso 14 Paolo descrive tre aspetti della natura corrotta che dobbiamo cambiare I desideri corrotti, l'incapacità di percepire, discernere e comprendere le cose spirituali e di fare le cose da una natura spirituale I desideri corrotti ci fanno peccare, causano la corruzione del mondo ci fanno litigare e combattere, ostacolano le nostre preghiere e combattono contro la nostra anima Il desiderio corrotto, quando ha concepito, partorisce il peccato e il peccato, quando è pienamente cresciuto, porta la morte Giacomo capitolo 1 verso 15 Dio ci ha concesso le sue preziose e grandissime promesse affinché, per mezzo di esse, possiate diventare partecipi della natura divina essendo sfuggiti alla corruzione del mondo a causa del desiderio corrotto Secondo Pietro capitolo 1 verso 4 Quali sono le cause delle liti e dei litigi tra di voi? Non sono forse provenienti dai desideri corrotti in guerra dentro di voi? Desiderate e non avete, quindi uccidete Desiderate e non potete ottenere, quindi combattete e litigate Non avete ciò che desiderate, perché non chiedete Chiedete e non ricevete, perché chiedete con motivazioni sbagliate per poterlo spendere per i vostri desideri corrotti Giacomo capitolo 4 versi 1 a 3 Vi esorto, come stranieri ed esiliati, ad astenervi dai desideri della carne, natura della vecchia umanità, che combattono contro la vostra anima Primo Pietro capitolo 2 verso 11 Paolo dice che dobbiamo rinunciare completamente e allontanarci dai desideri corrotti che fanno parte della vecchia umanità I desideri corrotti hanno corrotto la natura dell'umanità nata da Adamo La nostra natura è ora quella di Diffidare di Dio Rifiutare l'autorità di Dio su di noi Rifiutare una vita di sottomissione a Dio Rifiutare le provvidenze di Dio e fare affidamento su noi stessi per Percezione, discernimento e comprensione La guida Desideriamo più la comodità e l'agio che la crescita spirituale, la maturità e il completamento Di conseguenza, non siamo in grado di percepire, discernere o comprendere le cose spirituali e fisiche come dovremmo Ogni desiderio che cambia la nostra natura in questo modo è corrotto Se esaminiamo i desideri corrotti, vediamo che hanno tutti un elemento comune, ciò che voglio Quello che voglio avere Quello che voglio fare Quello che voglio consumare Quello che voglio essere Quello che voglio che gli altri pensino che io sia Voglio vivere la mia vita per compiacere me stesso Per dirigere e ordinare i miei passi, per soddisfare i miei desideri Voglio vivere la mia vita secondo la mia comprensione Voglio determinare da solo ciò che è reale, vero, buono e ciò che devo desiderare e credere Sradichiamo i desideri e le credenze corrotti della natura spirituale corrotta Ordinando a questi desideri e credenze di essere sradicati e piantati nel mare e credendo all'insegnamento di Gesù che ci obbediranno Se avete fede come un granello di senape potreste comandare a questo fico Sradicati e piantati nel mare ed esso vi ubbidirebbe Luca capitolo 17 verso 6 Desideri e convinzioni corrotti, nel nome del Signore Gesù, vi ordino di essere sradicati e piantati nel mare Coloro che appartengono a Cristo Gesù hanno crocifisso la carne con le sue passioni e i suoi desideri Galati capitolo 5 verso 24 Quando eliminiamo i desideri e le convinzioni corrotti, sfuggiamo a una parte della natura della vecchia umanità Dobbiamo ancora sfuggire all'essere saikaicos, guidati e governati dai nostri sentimenti, credenze, sensi, comprensione e capacità Ed essere invece pneumaticos, guidati e governati dallo Spirito Santo Dobbiamo morire al modo di vivere saikaicos e vivere in un modo nuovo per sfuggire alla distruzione della vecchia umanità ed entrare nella vita eterna Capitolo 7 Entra nell'alleanza della vita Efesini e primo Giovanni ci dicono che le forze spirituali malvage sono in guerra contro di noi Efesini capitolo 6 verso 12 e primo Giovanni capitolo 4 versi 1 a 3 Satana sfrutta la natura della vecchia umanità che è in noi per danneggiare noi e coloro che ci circondano Usa la nostra incapacità di percepire, discernere e capire le cose spirituali per ingannarci e condurci su percorsi di morte Satana usa la nostra fiducia in noi stessi e la nostra sfiducia per dividerci Usa la nostra mancanza di potere e autorità per sopraffarci e affliggerci Per vincere Satana dobbiamo stringere un'alleanza con qualcuno che ci guidi fedelmente verso la verità e il percorso della vita e che abbia potere e autorità su Satana Dio ci offre proprio questa alleanza Dio promette di guidarci in tutta la verità, comprese le cose spirituali Promette di guidarci nel percorso della vita e di cambiare la nostra natura in modo che Satana non possa sfruttarla Io stabilirò questa alleanza con il popolo di Israele dopo quel tempo, dichiara il Signore Metterò le mie leggi nella loro mente e le scriverò sul loro cuore Io sarò il loro Dio ed essi saranno il mio popolo Non insegneranno più al loro prossimo e non si diranno più Conosci il Signore, perché tutti mi conosceranno, dal più piccolo al più grande Perché io perdonerò la loro malvagità e non ricorderò più i loro peccati Ebrei capitolo 8 versi 8 a 12 e Geremia capitolo 31 versi 31 a 34 Darò loro l'unità di cuore Metterò in loro uno spirito nuovo Toglierò dalla loro carne i cuori di pietra e darò loro cuori di carne Affinché vivano secondo le mie norme Obediscano alle mie regole e agiscano in base ad esse Allora saranno il mio popolo e io sarò il loro Dio Ezechiele capitolo 11 versi 19 e 20 Vi darò un cuore nuovo e metterò dentro di voi uno spirito nuovo Toglierò il cuore di pietra dalla vostra carne e vi darò un cuore di carne Metterò il mio spirito dentro di voi e vi farò camminare nei miei statuti e osservare le mie regole Ezechiele capitolo 36 versi 26 e 27 Gesù aggiunse alcuni dettagli su ciò che Dio avrebbe fatto Io chiederò al padre ed egli vi darà un altro consigliere che rimanga con voi per sempre È lo spirito di verità Quando lo spirito di verità avverrà vi guiderà in tutta la verità Giovanni capitolo 14 verso 16 e capitolo 16 verso 13 Nella nuova alleanza Dio ci ha fatto una serie di promesse Noi dobbiamo fare una serie di promesse corrispondenti a Dio per entrare nella sua alleanza Dobbiamo promettere di rimuovere il cuore di pietra e ricevere ciò che ci dà Le sue parole, un cuore nuovo, uno spirito nuovo e il suo spirito Dobbiamo promettere di fare tutto ciò che Dio ci dice di fare e che Lui approva Dobbiamo anche promettere di non fare ciò che ci dice di non fare o che disapprova In definitiva, facciamo tutte queste promesse se promettiamo di essere guidati e governati Dallo spirito santo in tutto ciò che siamo, desideriamo, crediamo, pensiamo, diciamo e facciamo Se siamo guidati e governati dallo spirito santo, egli realizzerà i risultati delle altre promesse Capitolo 8. Discernere le cose spirituali Quando cerchiamo di passare a una vita guidata dallo spirito santo, ci troviamo di fronte a una sfida importante Le cose spirituali ci sembrano insensate La persona naturale, Saikaikos, non accetta le cose dello spirito di Dio perché per lui sono folli e non è in grado di comprenderle perché deve discernerle spiritualmente, pneumaticos Prima Corinzi capitolo 2 verso 14 Lo spirito santo discerne le cose spirituali e se chiediamo a Dio di mandarlo a guidarci, lo spirito santo ci rivelerà le cose spirituali e ci mostrerà cosa dobbiamo fare Dobbiamo scoprire come riconoscere lo spirito santo che ci guida La Bibbia ci rivela alcune cose che ci aiutano Primo Giovanni capitolo 4 versi 1 a 3 rivela che gli spiriti ci parlano e noi possiamo ascoltarli e accettare o rifiutare consapevolmente ciò che dicono Possiamo mettere alla prova gli spiriti ponendo loro delle domande Essi possono risponderci e noi siamo in grado di ascoltare la loro risposta L'ascolto degli spiriti può avvenire come un dialogo esterno che sentiamo con le nostre orecchie Ma la maggior parte avviene come un dialogo interno che sentiamo nei nostri pensieri Non credete a ogni spirito, ma mettete alla prova gli spiriti per vedere se vengono da Dio Perché molti falsi profeti sono usciti nel mondo Conoscete lo spirito di Dio in questo modo Ogni spirito che confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne è da Dio Ogni spirito che non confessa che Gesù Cristo è venuto nella carne non è da Dio Primo Giovanni capitolo 4 versi 1 a 3 Primo Giovanni capitolo 4 versi 1 a 3 rivela anche un altro problema Alcuni spiriti cercano di ingannarci e di fuorviarci mentre altri cercano di rivelarci la verità e dimostrarci cosa dobbiamo fare Dobbiamo mettere alla prova gli spiriti per discernere la natura dello spirito che ci parla Mettiamo alla prova lo spirito chiedendogli di confessare Gesù è il Signore e Gesù Cristo è venuto nella carne Uno spirito proveniente da Dio confesserà Gesù è il Signore e Gesù Cristo è venuto nella carne in modo positivo e gioioso Uno spirito che non viene da Dio non lo farà Primo Giovanni capitolo 4 versi 1 a 3 e Prima Corinzi capitolo 12 verso 3 Dovremmo anche mettere alla prova lo spirito confrontando ciò che ha detto con le scritture La parola di uno spirito di Dio concorderà con la Bibbia La sua parola è verità Giovanni capitolo 17 verso 17 Essi, i giudei di Berea, accolsero la parola, predicata da Paolo e Sila, con ogni entusiasmo, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se queste cose erano vere Atti capitolo 17 verso 11 Tutte le scritture sono ispirate da Dio e sono utili per l'istruzione, per la prova di cose che non si vedono Elegmon, per la correzione e per la formazione alla rettitudine Secondo Timoteo capitolo 3 verso 16 L'elegmon è per la convinzione della colpa, o quello per cui le cose invisibili sono provate E noi siamo convinti della loro realtà E' l'elegmon delle cose che non si vedono in ebrei capitolo 11 verso 1 Dobbiamo coltivare la parola di Dio nel nostro cuore Per riconoscere quando ciò che lo spirito dice è d'accordo con essa e quando no Le parole di Dio producono anche la capacità di ascoltare lo Spirito Santo che ci guida Nella parabola del seminatore Gesù ci dice che quando seminiamo le parole di Dio nel nostro cuore Esse producono frutto L'udito fa parte di questo frutto La fede viene dall'udito e l'udito dalla parola di Cristo Romani capitolo 10 verso 17 I proverbi dicono che le parole di Dio nei proverbi producono udito Anche le parole di Dio nel resto della Bibbia producono udito Questi sono i proverbi di Salomone figlio di Davide Un uomo saggio ascolta e impara di più Proverbi capitolo 1 versi 1 e 5 Coltiviamo le parole di Dio nel nostro cuore e otteniamo il frutto dell'udito Chiedendo continuamente a Dio di inviare lo Spirito Santo per guidarci nella verità delle parole di Dio E per esplorare come fare ciò che Dio dice di fare Leggiamo la Bibbia e prestiamo attenzione per ascoltare ciò che le parole di Dio dicono Le accettiamo indipendentemente dalla nostra comprensione E non ci allontaniamo da quelle parole a causa di tribolazioni, persecuzioni, problemi, piaceri, ricchezze o desideri di altre cose Matteo capitolo 13 versi 18 a 23 Marco capitolo 4 versi 14 a 20 E Luca capitolo 8 versi 11 a 15 Cerchiamo anche altre informazioni per capire cosa dice la Bibbia Le diverse versioni della Bibbia, i dizionari, i lessici, i commentari e i manuali dei traduttori Sono fonti di informazione preziose Dovremmo cercare come se fossimo a caccia di un tesoro prezioso Se accogliete le mie parole e nascondete i miei comandamenti dentro di voi Se tendete l'orecchio alla saggezza e dirigete il vostro cuore verso l'intelligenza Se invocate l'intuizione e alzate la voce verso la comprensione Se la cercate come l'argento e la cercate come un tesoro nascosto Allora discernerete il timore del Signore e scoprirete la conoscenza di Dio E allora discernerai la rettitudine, la giustizia e l'equità Ogni buon percorso Proverbi capitolo 2 versi 1 a 5 e 9 Seminare le parole di Dio nel nostro cuore significa anche esplorarle facendole La Bibbia contiene numerosi esempi di persone che hanno esplorato Facendo ciò che Dio aveva detto loro di fare Noè esplorò costruendo l'arca Abramo ha esplorato lasciando la sua famiglia e andando dove Dio gli aveva detto di andare Il giovane ricco in Marco, capitolo 10, non ha esplorato quando Gesù gli ha detto di vendere quello che aveva Dare ai poveri e seguirlo Ha perso l'opportunità di aggiungere alla sua natura ciò che gli mancava Esploriamo indossando l'armatura di Dio, mettendo alla prova gli spiriti Non affidandoci alla nostra comprensione, eccetera Quando esploriamo, Dio ci dà di più da vedere e da ascoltare Ci dà più percezione Matteo capitolo 13, versi 10 a 12 e 16 Marco capitolo 4, versi 10 a 12 e 21 a 25 E Luca capitolo 8, versi 9, 10 e 16 a 18 Possiamo anche esplorare, cercando nella Bibbia i comandi a cui obbedire I comandi di Dio sono come porte o cancelli Se li troviamo ed esploriamo facendo ciò che Dio comanda Cresciamo nel discernimento delle cose spirituali Aggiungiamo gli attributi spirituali di Dio al nostro essere E passiamo a una vita governata e guidata dallo Spirito Santo Capitolo 9, produrre frutti spirituali Dio ci chiama a essere partecipi della sua natura, santa, e a produrre frutti secondo la sua natura Secondo la legge del seme, una cosa ha la natura del seme che l'ha prodotta e produrrà un seme che ha la sua natura Se vogliamo cambiare la natura di qualcosa, dobbiamo cambiare la natura del seme che l'ha prodotta Se continuiamo a seminare lo stesso seme, continueremo a raccogliere il frutto della sua natura Produrremo frutti spirituali, secondo la natura del seme che ha prodotto la nostra natura La parola di Dio è seme puro, retto, santo, buono, incorruttibile e vivo di vita eterna Proverbi capitolo 30 verso 5, Romani capitolo 7 verso 12, Ebrei capitolo 4 verso 12 e Primo Pietro capitolo 1 verso 23 Se coltiviamo la parola di Dio nel nostro cuore, essa produrrà in noi secondo la sua natura e noi produrremo frutti secondo la sua natura Dobbiamo seminare abbastanza parola di Dio da superare gli sforzi di Satana per renderla infruttuosa Altrimenti non cambierà la nostra natura e non produrrà frutto attraverso di noi Più superiamo gli sforzi di Satana, più la nostra natura sarà cambiata e più frutto produrremo Dobbiamo anche allontanarci e rifiutare le preoccupazioni di questo mondo, i desideri di piacere e di altre cose e la fiducia in altre cose che Satana usa per rendere infruttuose le parole di Dio Gesù ha detto che se facciamo queste cose, le parole di Dio produrranno frutto in noi Poiché le parole di Dio sono semi e seguono la legge del seme, il frutto che producono alla natura di Dio Noi partecipiamo alla natura di Dio e produciamo frutti spirituali attraverso i frutti prodotti nel nostro cuore dalle sue parole Il seme caduto sul sentiero rappresenta coloro che ascoltano il messaggio sul regno e non lo comprendono Quando ciò accade, il maligno proviene e porta via il seme che il seminatore ha piantato nei loro cuori Il seme sul terreno roccioso rappresenta coloro che ascoltano il messaggio e, con gioia, lo ricevono immediatamente Non avendo radici profonde, non durano a lungo Si allontanano non appena hanno problemi o subiscono persecuzioni perché credono alla parola Il seme caduto tra le spine rappresenta coloro che ascoltano la parola Ma le preoccupazioni e i piaceri di questa vita, i desideri di altre cose e la fiducia nelle ricchezze Entrano e soffocano la parola in modo che non produca frutto Il seme caduto sul terreno buono rappresenta coloro che ascoltano e comprendono la parola E perseverano fino a produrre un raccolto di 30, 60 o addirittura 100 volte superiore a quello che era stato piantato Matteo capitolo 13, versi 19 a 23 Marco capitolo 4, versi 14 a 20 E Luca capitolo 8, versi 22 a 25 Mentre seminiamo le parole di Dio, dobbiamo anche seguire il suo Spirito Lo Spirito Santo ci guida a potarci e ad affinarci affinché le parole di Dio producano più frutto Giovanni capitolo 15, verso 2 Egli pota via da noi le erbacce della vecchia natura In modo che la parola di Dio possa aggiungere a noi gli attributi spirituali della natura di Dio Con questo processo, lo Spirito Santo ci circoncide con una circoncisione fatta senza mani Colossesi capitolo 2, verso 11 Ci battezza in Cristo Prima Corinzi capitolo 12, verso 13 E le parole di Dio formano Cristo in noi Galati capitolo 4, verso 19 Cessiamo di essere potenziati e controllati dalla vecchia natura umana E siamo invece potenziati e controllati da Cristo in noi Viviamo, ma siamo potenziati e controllati da Cristo in noi Galati capitolo 2, verso 20 Siamo nati dalla parola e dallo Spirito di Dio Smettiamo di produrre i frutti corrotti della natura della vecchia umanità E produciamo frutti secondo gli attributi spirituali della parola e dello Spirito Per maggiori dettagli su come la parola e lo Spirito Santo operano per aggiungere attributi spirituali a noi Si veda il mio libro, Crescita spirituale Capitolo 10 Conosciuto dai nostri frutti Dalla legge del seme, conosciamo la natura di qualcosa quando vediamo la natura del frutto che produce Paolo ha applicato questo principio nella sua prima lettera ai Corinzi Poiché tra voi ci sono gelosie e lotte, non siete forse persone della vecchia umanità, carnale e vivete come increduli Prima Corinzi capitolo 3, verso 3 Paolo disse che le lotte e le gelosie erano prove di persone guidate e governate dai loro sentimenti, credenze, sensi, comprensione e capacità La Bibbia elenca altre prove La caratteristica fondamentale delle persone della vecchia umanità è quella di affidarsi ai propri sentimenti, alle proprie convinzioni, ai propri sensi, alla propria comprensione e alle proprie capacità per essere guidati e governati invece di affidarsi a Dio La convinzione che queste cose siano sufficienti e che non abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio è orgoglio La fiducia nel possesso e nell'ottenimento di queste e altre cose, per poter guidare e governare la nostra vita, è la fiducia nella ricchezza Pensiamo alla fiducia nella ricchezza come alla fiducia nelle risorse materiali, ma è molto di più Comprende la fiducia nel possesso e nell'acquisizione di comprensione, capacità, esperienza, reputazione, accreditamento, influenza, potere e autorità La fiducia nella ricchezza porta all'avidità di guadagno e alla paura della perdita Essa dà origine alla maggior parte delle opere della vecchia umanità Lotte, invidie, gelosie, rivalità, divisioni, idolatria e stregoneria L'uso del potere ottenuto con l'assistenza o il controllo di droghe o di spiriti maligni Un'altra caratteristica della vecchia umanità è quella di cercare di acquisire esperienza, discernimento e comprensione attraverso i sensi fisici Il che contribuisce a un'eccessiva indulgenza nei confronti del piacere sensuale, dell'ubriachezza, dell'eccessiva indulgenza e dell'immoralità sessuale Le persone della vecchia umanità sono limitate nella loro capacità di discernere le cose spirituali e fisiche Usano i loro sentimenti e i loro desideri per determinare cosa è buono e cosa no Se si sentono bene in una situazione, la considerano buona La considerano cattiva se si sentono male Se pensano che una situazione funzionerà per soddisfare i loro desideri, la considerano buona mentre la considerano cattiva se ostacola o impedisce la soddisfazione dei loro desideri La vecchia umanità usa i suoi sensi fisici per discernere allo stesso modo Vede le cose che hanno un aspetto, un suono, un sapore, un odore e una sensazione positiva come buone e quelle che non lo sono come cattive Infine, la vecchia umanità fa le cose in modo fisico invece che spirituale Usa il potere e l'autorità fisici invece di quelli spirituali Lottano contro altre persone invece che contro forze spirituali Le persone nate da Dio, la nuova umanità, dipendono attivamente da Dio per tutto ciò che riguarda la vita Si affidano a Dio per essere guidati, governati e potenziati invece di affidarsi ai propri sentimenti, convinzioni, sensi, comprensione e capacità La convinzione che queste cose non siano sufficienti e che abbiamo bisogno dell'aiuto di Dio è umiltà La nuova umanità si fida di Dio per essere guidata e governata grazie alla sua bontà, fedeltà, rettitudine, incorruttibilità, amore, saggezza, conoscenza, comprensione, capacità, potere e autorità Si affidano a Dio perché dia loro la percezione per discernere le cose spirituali e li abiliti e li istruisca a fare le cose in modo spirituale Confidano nel potere e nell'autorità di Dio per vincere i nemici spirituali e la vita eterna I nati da Dio cercano di acquisire gli attributi spirituali necessari per fare l'unica cosa fondamentale per essere guidati e governati da Dio Ascoltare, discernere e seguire Dio Cercano gli stessi attributi per avere fiducia, perseverare, fare cose spirituali, vincere i nemici spirituali ed essere considerati fedeli per ricevere potere, autorità e vita eterna Le persone nate da Dio aggiungono questi attributi grazie all'abbondanza della parola di Dio seminata nei loro cuori che, secondo la legge del seme, produce frutti con la natura di Dio Portano a maturazione il frutto della parola di Dio, perseverando attivamente, cercando e seguendo le istruzioni di Dio invece di altre cose Capitolo undici Potere essenziale, ricchezza e vita La parola del Nuovo Testamento che indica la ricchezza è mamonai È un termine che indica il tesoro su cui le persone fanno affidamento Le persone della vecchia umanità si affidano ai loro sentimenti, alle loro credenze, ai loro sensi, alla loro comprensione e alle loro capacità per essere guidati e governati Queste cose sono la loro ricchezza Le persone della nuova umanità si affidano a Dio per essere guidate e governate e alla parola e allo Spirito di Dio per produrre gli attributi spirituali necessari per ascoltare, discernere e seguire Dio Il fatto che Dio mandi lo Spirito Santo per guidarci, che la parola di Dio produca in noi gli attributi spirituali della natura di Dio e che lo Spirito Santo porti questi attributi a maturazione è una ricchezza essenziale La guida dello Spirito Santo, la saggezza, la fede, la virtù, la conoscenza, la perseveranza e l'amore sono una grande ricchezza Chi li ha e fa affidamento su di essi è molto più ricco di chi non li ha Anche la parola di Dio e gli attributi spirituali che essa produce sono una potenza essenziale Sono la forza della vita e della pietà La perseveranza è la potenza di Dio che ci permette di rimanere allineati e di andare avanti senza tener conto dello scoraggiamento, dell'opposizione, della perdita, del fallimento precedente, della mancanza di comprensione o della mancanza di benefici apparenti Anche la fede è una potenza Così come lo sono la virtù, la bontà, l'amore e gli altri attributi spirituali che la Bibbia ci dice di ricercare Secondo Pietro capitolo 1 versi 3 a 11 La vita eterna è la ricchezza suprema È la vita definitiva La parola di Dio coltivata nel nostro cuore produce vita eterna Lo Spirito Santo ci guida, ci perfeziona e porta a maturazione e a compimento in noi la vita eterna impartita dalla parola di Dio Capitolo 12 Il percorso della vita In Adamo tutti muoiono Prima Corinzi capitolo 15 verso 22 Come discendenti di Adamo, nasciamo membri del corpo umano sul percorso che porta alla morte Secondo la legge del seme, ereditiamo la natura di Adamo con desideri corrotti che producono peccato e morte Come Adamo, ci affidiamo ai nostri sentimenti, alle nostre convinzioni, ai nostri sensi, alla nostra comprensione e alle nostre capacità per guidarci, governarci e potenziarci Facendo affidamento su queste cose e cercando di ottenerle, seminiamo la natura corrotta e raccogliamo la morte Per sfuggire al percorso della morte, dobbiamo rimuovere il seme che abbiamo seminato, smettere di seminarne altro e seminare semi di natura diversa In Cristo, tutti saranno vivificati Prima Corinzi capitolo 15 verso 22 Il seme di Dio, la sua parola, produce discendenti con la natura di Dio, eterna, incorruttibile, giusta, santa e buona Quando riempiamo i nostri cuori con la parola di Dio e ci affidiamo ad essa e allo Spirito Santo per guidarci, governarci e potenziarci, essa formerà in noi la natura di Dio Nasceremo dalla parola e dallo Spirito di Dio e avremo gli attributi spirituali necessari per percorrere il difficile percorso della vita ed entrare nella porta stretta Gesù rispose a Nicodemo Non si può entrare nel regno di Dio se non si è nati dall'alto, dallo Spirito Giovanni capitolo 3 versi 5 a 8 Voi avete avuto una nuova nascita, dall'alto, non da seme corruttibile, ma incorruttibile, mediante la parola di Dio, che è vivente ed eterna Primo Pietro capitolo 1 verso 23 La potenza di Dio ci ha dato tutto ciò di cui abbiamo bisogno per la vita e la pietà, attraverso la conoscenza di colui che ci ha chiamati alla sua gloria e alla sua bontà Per questo ci ha dato promesse preziose e superlativamente grandi, affinché, grazie ad esse, possiate partecipare alla natura di Dio e sfuggire alla corruzione che i desideri malvagi hanno proveniente dal mondo Proprio per questo motivo, sforzatevi di fornire la vostra fede con la bontà la bontà con la conoscenza, la conoscenza con l'autocontrollo, l'autocontrollo con la perseveranza, la perseveranza con la pietà, la pietà con l'affetto fraterno e l'affetto fraterno con l'amore Se infatti avete queste qualità in abbondanza, esse vi impediscono di essere sterili e infruttuosi nella conoscenza del nostro Signore Gesù Perciò, fratelli, siate tanto più diligenti nel confermare la vostra chiamata ed elezione, perché se praticate queste qualità non cadrete mai Perché in questo modo vi sarà abbondantemente concesso l'ingresso nel regno eterno del nostro Signore e Salvatore Gesù Cristo Secondo Pietro capitolo 1, versi 3 a 8, 10 e 11 Questa è la fine del libro